Il figlio di Dio Ecco è bello pensare che Dio che è grande si fa piccolo per abitare, per stare in mezzo a noi e lo fare le sembianze di un bambino per indicarci come la tenerezza, l'amore, la carità, la bontà sono gli strumenti con cui si può dialogare, con cui si può relazionarsi, sono questi gli strumenti con cui si vince. E' l'amore che vince su tutto, in un mondo in cui c'è violenza, c'è guerra, in un mondo in cui assistiamo a tanta tristezza e con la bontà del bambino la sua tenerezza ci invita proprio ad avere un cuore che sia capace di amare, di accogliere e di perdonare. E allora sia questo l'augurio per questo Natale. Il Signore viene nonostante tutto a dirci che possiamo ricominciare, a dirci che c'è ancora una possibilità, c'è ancora una speranza. Anche se questo mondo è pieno di violenza, anche se questo mondo è pieno di motivi per essere tristi, abbiamo un motivo per essere gioiosi, per essere contenti e il motivo è proprio la presenza del Signore. Allora auguri, auguri di speranza, di gioia, di pace, di serenità. Apriamo il nostro cuore ad accogliere tutta questa bontà e sappiamo lasciarci prendere, intenerire il cuore. Sappiamo anche noi con gesti di carità, di amore, di bontà, relazionarci agli altri per costruire un mondo di pace, di gioia, un mondo di serenità. Accogliamo il Signore nella nostra vita, accogliamo il suo messaggio di amore e anche noi possiamo essere casa, luogo, comunità che fa nascere, che accoglie la vita, che promuove la vita. Possiamo essere anche noi come comunità diocesana capaci di donare vita, di donare speranza alle persone che incontriamo. Allora a tutti i miei cari sacerdoti di questa cara diocesi di San Marco Argentano Oscalea, auguri, auguri a tutti i fedeli, auguri ai seminaristi, ai religiosi, alle religiose, auguri a tutti gli operatori pastorali, auguri agli anziani, agli ammalati, alle persone sole, alle famiglie che sono in difficoltà, ai bambini, ai giovani, auguri a tutti, auguri anche a coloro che sono lontani, ai non credenti, che questo Natale possa raggiungere con il suo messaggio di speranza e di gioia veramente i cuori di tutti. Auguri a tutto il nostro territorio che possa risorgere, possa rinascere, auguri a questo territorio della nostra diocesi che accogliendo il bambino Gesù sia un territorio che dona vita, che fa nascere. Buon Natale a tutti.